Allora, eccoci qui, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo, visto per una richiesta ricevuta anche da sondaggio su Instagram, sulla pagina nostra di Instagram, che vi consiglio di seguire. Siamo su Instagram sotto il nome di Ripetizioni Universitari. Trovate anche tutte le informazioni nell'info box di questo video. Ci è stato richiesto praticamente di verificare a taglio una sezione a WT o a D con la forza tagliante T non passante per il centro di taglio, ma distante di una certa quantità. E quindi eccolo qui l'esercizio. Abbiamo preso questa trave di dimensioni 10-10, delta spessore, quindi della trave costante 0,2 cm, e forza tagliante di 1500 N passante ad 1 cm, quindi agente ad 1 cm, dal centro di taglio che, come sappiamo già dai video vecchi precedenti, si trova proprio nell'intersezione dei due assi principali di inerzia, perché questa sezione è doppiamente simmetrica, che sono gli assi eta e xi, quindi qui in mezzo troveremo il centro di taglio che coincide anche con il baricentro. La prima parte di questo esercizio si svolge tale e quale come svolto per la trave a WT, per la forza tagliante passante per il centro di taglio, quindi si calcolano i momenti di inerzia e in particolare si calcolano grazie al teorema di trasposizione di Hugensteiner, per cui abbiamo che il momento di inerzia del rettangolo 1 può essere calcolato, sarà sicuramente uguale al momento di inerzia del rettangolo 3 per simmetria, ciò equivale a fare due volte il momento di inerzia, ad esempio, del rettangolino 1, due volte perché così sommiamo i n1 più i n3, quindi avremmo praticamente, facendo i conti, avremmo base per altezza diviso 12 è la formula, quindi A per delta al cubo, che è l'altezza diviso 12, più l'area della sezione, quindi A per delta, per la distanza che il baricentro, diciamo, se questa è la divisione dei rettangolini, cioè tutto questo è il nostro rettangolino 1, quindi la distanza, stavamo dicendo, del baricentro che questo rettangolino 1 ha dall'asse eta, che viene detta anche asse forte, che è praticamente, quindi, A mezzi, se guardiamo un pochino un momento, questo qui è A mezzi, quindi A mezzi, A mezzi, meno delta mezzi, quindi meno questo spessorino qui, e quindi meno delta mezzi al quadrato. Si sviluppano i conti, inserendo, ovviamente, i dati forniti, e si ritrova un momento di inerzia pari a 96,0503 cm quarti. Poi possiamo calcolare il momento I con N2, il momento di inerzia del rettangolo 2, rispetto all'asse forte eta, per cui sarà semplicemente l'altezza di questo rettangolo, e quindi avremo A mezzi, sarà semplicemente l'altezza di questo rettangolo, e quindi B per H al cubo avremo base delta, H che sarà A meno 2 delta al cubo, dodicesimi. Se si sviluppano momenti calcolini anche per questo momento, avremo un risultato di 14,745 cm alla quarta. Ovviamente, sommando questi due contributi, otterremo il momento totale di inerzia della figura rispetto all'asse eta, che è pari a 110,798 cm alla quarta. Quindi questa parte qui andiamo molto veloce, perché è roba banale. La parte più interessante viene da questo slide, perché per il problema del desamvena, noi possiamo scendere questa struttura in due, diciamo, sottostrutture, ovvero una prima struttura, cioè staticamente questa struttura qui, quella che vedete a sinistra dell'uguale, è possibile scenderla dunque in una struttura dove facciamo agire il taglio che passa nel centro di taglio, più la stessa struttura dove non facciamo agire il taglio, ma facciamo agire il momento torcente che genera questa forza T rispetto all'asse Z, che sarebbe l'asse uscente dallo schermo, individuato ovviamente ortogonale agli assi Etexi. E quindi dovremmo risolvere il problema del taglio, quindi che è questo, quindi il problema del taglio, abbreviato in PT, ed il problema della torsione, e quindi abbreviato in PT. Andiamo a vedere quindi il problema del taglio, che è una parte che abbiamo già fatto con un metodo forse ancora più veloce. In questo caso, e dunque, abbiamo questa nostra struttura con le parametrizzazioni. Che significa? Prendiamo un pezzetto, vedete questi qua segnati in nero, partiamo ad esempio dalla semiale, quindi guardiamo solo il pezzetto nero della semiale, che ovviamente ha una distanza incognita Eta1, e poi ovviamente questa in verde qui, H mezzi, sarebbe l'altezza sviluppata dalla linea media. Esistono principalmente due modi per poter risolvere questi problemi attraverso la linea media, che sono l'esempio mostrato nel primo video con la trave a WT, e questo qui, che è per parametrizzazione, che è molto più veloce. Allora, parametrizzando, io voglio calcolare a questo punto i flussi che si hanno, ovviamente, dando per, diciamo, ipotizzando queste ascisse, che sono rappresentate dalle linee verdi. Allora, andiamo a parametrizzare, ad esempio, il flusso lungo la linea, la corda media 1-1. A questo punto il Q1-1, ovviamente che possiamo, a questo punto noi sappiamo, che si raggiungerà il massimo a questo punto qui. Se abbiamo parametrizzato da 0 qui ad Eta1 qui, Eta1 max sarà qui, in questo punticino qui, dove calco in rosso. Questo sarà il punticino massimo perché nelle zone in cui ci sono, diciamo, degli angoli, lì si sviluppano le massime tau, e quindi i massimi flussi di taglio. Allora, possiamo parametrizzare con la nota formula. Quindi sappiamo che i flussi sono dati da taglio per, a questo punto, Eta1, area di questo, diciamo, rettangolino, Eta1, per delta, per la distanza che questo rettangolino, il baricentro di questo rettangolino, che possiamo chiamare G1, sviluppa dall'asse Eta. È praticamente proprio H mezzi. Però, se ci facciamo caso, questo è le Xi positive. Queste sono le Xi positive. Questi sono gli Eta positivi. Quindi la distanza di G1 dal centro di taglio, dal baricentro della sezione, è negativa. È pari, praticamente, a meno H mezzi. Ovviamente fratto il momento di inerzia totale della sezione. A questo punto, se andiamo a calcolare qui il flusso, quindi avremo il Q1, 1 max, quello che noi dicevamo all'incrocio, ed ecco qui, sfruttando questa parametrizzazione, non la linea media, avremo taglio, per Eta1, sarà quindi tutta questa distanza qua, che possiamo chiamare, possiamo mettere a G1 direttamente, meno che deriva dall'H mezzi, visto che questo è tutto un prodotto. Questa distanza qui, intera, questa segnata in nero, sarà A mezzi, meno delta mezzi, meno delta mezzi. Quindi sarà A mezzi, meno delta mezzi, Eta1, che moltiplica delta per H mezzi, fratto il momento di inerzia totale dell'intera sezione, per ottenere un flusso di meno 65,010 N su cm, quindi approssimabile a solo 65 N su cm. A questo punto, calcolato il Q1 max, possiamo andare a calcolare, ad esempio, su questo altro rettangolino, vedete, questo grande, passando magari sulla slide successiva, quindi ci stiamo occupando di questo rettangolino qui, questo che sto colorando in blu adesso, e vogliamo adesso calcolare la parametrizzazione per questo rettangolino e metteremo Q uguale al taglio per, andiamo a vedere, adesso devo sommare i contributi di questa metà ala, perché questo, diciamo, rettangolino qui, non parte proprio dall'incrocio, da questi due incroci calcati in blu, ma è un pochino prima, quindi all'interno della sezione. Quindi dovremo calcolare il momento statico dato dall'intera semi-ala, ma attenzione, visto che stiamo parlando di una struttura doppiamente simmetrica e dobbiamo considerare anche l'ala che viene a sinistra, dovremo moltiplicare per 2 questo valore che è A mezzi per delta meno H mezzi, per meno H mezzi, eh, mi raccomando, perché sarebbe sempre la distanza negativa di, diciamo, questo baricentro G1 o di tutto anche il rettangolo, questo qui, eccolo qui, che sviluppa ovviamente dalla sezione. Ovviamente, poi andiamo a vedere la parametrizzazione qui. Abbiamo l'area di questo rettangolino, quindi prima di mettere un segno, ovviamente già si capisce che questo baricentro qui, di questo rettangolino qui, ha rispetto alla sezione una misura negativa, quindi già posso mettere un meno qui davanti. E quindi fare XI1 per delta, sarebbe l'area di questo rettangolino da parametrizzare, per, ovviamente, la distanza che il baricentro di questo rettangolino rettangolino di altezza XI1 e base delta, ha dall'asse eta, quindi dall'asse forte, che praticamente possiamo scrivere come A-2 delta mezzi meno XI1 mezzi. Ovviamente, se si sviluppano i conti, si ritrovano proprio, ovviamente, queste cose che ho detto, fratto ovviamente il momento di inerzia totale. Quindi, A-2 delta sarebbe questa distanza qui, vedete, questa qui, dove sto adesso mettendo le frecce, A-2 delta mezzi, quindi è questa, quindi questa qui, dove sto calcando adesso le frecce, quindi A-2 delta mezzi per XI1 mezzi, praticamente, che sarebbe questa distanza qui, meno XI1 mezzi, questa distanza qui, e otteniamo, quindi, ovviamente, la distanza del rettangolino parametrizzato dalla seta. Andiamoci a questo punto a calcolare il flusso sulla massima corda, che praticamente, questa si sviluppa in 3,3, dove abbiamo, praticamente, il centro di taglio, e quindi possiamo dire che Q33 max è uguale a questa formula, praticamente, sostituendo XI1 pari a, ovviamente, A-2 delta mezzi. Quindi, se sostituiamo questo A-2 delta mezzi nelle XI1 che vedete, cioè, qui e qui dentro, troviamo il flusso Q33 max che è pari a circa meno 132,673 newton su centimetro. Quindi, utilizzando, come vedete, la parametrizzazione si fa molto più veloce. A questo punto andiamo a calcolare, invece, le risultanti dei nostri flussi. Quindi, come possiamo calcolare le risultanti? Immaginiamo che nella semiala superiore, ovviamente, vedete dove sono queste freccette verveless, S1 verde e l'S2 verde. Ovviamente, non ve l'ho detto, ma voi lo sapete già, i flussi S4 e S3 saranno il contrario dei flussi calcolati per S1 ed S2. In pratica, Q11 max sarà uguale a meno QS2 max, cioè quello che si ottiene parametrizzando la semiala di qua. poi possiamo dire che il QS3 sarà uguale a meno QS2 e che il QS4 sarà uguale a meno QS1. Ok? Quindi, vuol dire che a sinistra avremo un di S1 avremo un positivo, sotto a S2 avremo un negativo, a fianco, quindi, ad S3 avremo ancora una volta un positivo come segno dei flussi. Andiamo a calcolare quindi le risultanti immaginando che queste linee verde abbiamo detto sono le risultanti fittizie dei nostri andamenti di flussi taglio. Andiamo quindi a vedere. Abbiamo quindi la R' intendo la risultante della prima semiala e che si calcola praticamente come integrale da 0 a da mezzi per il flusso parametrizzato di S'. Eccolo là dove sta scritto Q1 1 in nero e quindi mettiamo quello lì dentro. Quindi eccolo qui si integra su d'eta ovviamente otterremo t per delta meno h mezzi eta 1 da valutare da 0 a da mezzi in questo caso si utilizza la linea media perché è molto più conveniente come vedete l'integrale viene fatto sulla linea media quindi fratto i con nt. Allora se si usa la linea media diciamo usare la linea media rispetto a questa parametrizzazione ci sono diciamo degli errori solo in approssimazione sia dei flussi che sia per quanto riguarda i risultanti sulla linea media si commette un po' di errore ecco di calcolo mentre così per quanto riguarda i flussi mentre per quanto riguarda i risultanti non si può fare a meno quindi bisogna calcolare sulla linea media sviluppando i calcoletti mettendo sempre i numeri dati primo otterremo una risultata di meno 166 N questo significa che le risultanti ipotizzate verdi ecco il qua dove sta scritto S2 S1 vanno al contrario di come le abbiamo ipotizzate andiamo quindi a calcolarci R2 che è la risultante diciamo argente nell'anima e ci dobbiamo aspettare che questa risultante debba equagliare ovviamente il taglio quindi si fa ovviamente l'integrazione da 0 all'altezza della linea media a metà però se facciamo così dobbiamo moltiplicare per 2 questo integrale per il flusso parametrizzato dell'anima che è quel Q questo qui eccolo qua si inserisce questo e otteniamo e quindi si ottiene un integrale del genere dovreste trovare praticamente 3 diciamo integrali spezzati che se risolti appunto ci danno un 2 per meno 703 753 scusate 026 newton cioè circa uguale il taglio perché questo sarà 1506 052 newton questa è una formula approssimata e quindi possiamo ritenere soddisfacente la verifica quindi abbiamo verificato anche a taglio per il problema di taglio questa sezione verificata ancora una volta meno significa che la risultante verde che abbiamo utilizzato qui c'è questa non è diretta così ma va verso l'alto quindi andiamo nei diagrammi eccoli qua quindi abbiamo detto che queste qui dovevano andare così questa è la risultante nelle ali ovviamente questa è la risultante nell'anima per simmetria queste vanno ribaltate ed ecco qua questo viene detto anche andamento dei flussi poi possiamo fare una rappresentazione intanto a farfalla oppure tutto diciamo su su un solo piano cioè qui avevamo il massimo ecco qui in questo punto qui all'incrocio qui anche avevamo il massimo e quindi rappresentarlo così intendevo in questa maniera non cambia niente quello che cambia ovviamente cioè quello che non bisogna cambiare sono i segni quindi qui meno e qui più ovviamente del valore che avevamo calcolato poi la stessa cosa si ribaltano ovviamente con gli stessi valori che abbiamo visto sopra poi qui avevamo quel nostro valore calcolato se sarebbe quando xi 1 è praticamente uguale a 0 forse non ve l'ho detto sì infatti qui quando quando partiamo da da questa parte qui diciamo evidenziamola da questa parte qui dove xi 1 è uguale a 0 ovviamente tutto questo termine è uguale a 0 quindi possiamo ottenere un q2 diciamo un q2 2 che praticamente pari a meno 132 newton su centimetro quando xi 1 è uguale a 0 questo compare rimane praticamente solo questa parte qui quindi è questo il diciamo valore che stiamo rappresentando qui questo qui eccolo qua questo qua è quel meno 132 ovviamente se rimbalta diventerà positivo l'andamento qui abbiamo visto c'era un massimo ed era di circa 163 ovviamente qui l'andamento è parabolico ovviamente sono grafici a maniera questi veramente fatti molto e quindi eccolo qua più o meno quindi abbiamo qui la parte negativa si ribalta e si sarà la parte positiva ed ecco qua ovviamente con i valori che abbiamo trovato quindi questo è il problema di taglio che abbiamo già ampiamente esaminato per quanto riguarda il problema della torsione dobbiamo quindi aggiungere una liquota che è praticamente uguale per tutti i rettangoli perché la sezione è a spessore costante questa liquota correttiva sarà q calcolata secondo la seconda formula che è 3 volte mt per la lunghezza della linea media nel tratto nel rettangolo considerato per delta questo è ovviamente la cosiddetta formula dei flussi per le sezioni rettangolari allungate il nostro momento mt chi sarà? sarà quel 1500 che agiva ad una distanza 1 newton ma come agiva? se ci fate caso nel problema del taglio ho messo il momento in questa maniera quindi è un momento orario rispetto all'asse z quindi i momenti orari sono negativi per ovviamente definizione di momento e quindi otterremo un momento di meno 1500 newton centimetri la lunghezza della linea media in questo caso è questa qui sarà per la prima semiala a mezzi per la seconda ala ancora a mezzi ma sappiamo che è un problema speculare quindi possiamo scrivere 3 volte mt su a mezzi per ovviamente delta si svolge il calcolo è di circa quindi meno 1400 meno 4500 scusate newton su centimetri quindi ovviamente questo si ripete a destra e a sinistra quindi vuol dire che sarà costante su questo tratto poi bisogna calcolare il flusso anche su questo tratto q diciamo sul rettangolo questo qui dove la linea media è praticamente h quindi sarà 3 volte mt per h per delta che è circa uguale ovviamente a questo q ovviamente tutti i rettangoli sono di uguale ampiezza quindi cosa dobbiamo metterci il diagramma delle torsioni che è questo costante in questa maniera di quel valore che abbiamo calcolato costante qui ovviamente sempre con il valore appena calcolato e costante ancora una volta qui sotto per il valore calcolato ovviamente quali sono le sezioni maggiormente sollecitate ovviamente sono queste qui quelle che sto adesso calcando con questo diagramma a farfalla avremo questa sollecitazione qui immediatamente ovviamente dove siamo nei pressi del centro di taglio saremo una sezione praticamente del genere e ovviamente qui sotto nello speculare e quindi queste sono le sezioni più sollecitate perché ovviamente qui agiva il taglio è chiaro che lì sarà la sezione più sollecitata quella la sezione più sollecitata si troverà nel centro di taglio dove ovviamente agisce il momento quindi questo è il diagramma delle torsioni questo è il diagramma del problema quindi dello sforzo con il taglio passante per il centro di taglio quello in rosso sono le risultanti il problema è così concluso e per questo è concluso anche l'esercizio e quindi ci vediamo a un prossimo video